ciao a tutte ragazze e ragazze benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere i componenti dell'uscita numero 71 di ritorno al futuro costruisce ritorno al futuro che sono queste allora abbiamo la portiera destra tutta fatta in plastica di qualità molto bella poi abbiamo i comandi della portiera il bracciolo una fibbia la nostra cinghia poi abbiamo la serratura molto piccola fronte la serratura dietro vari supporti per il fissaggio delle nostre lampadine e infine abbiamo due lenti rossi e una lenta rancione tutti i pezzi che servono per rassemblare la nostra portiera destra per questo video è tutto grazie per la visione presto ciao ciao